Abbiamo avuto una serie di furti nella settimana, in particolare nella notte fra sabato e domenica, in strutture ricettive che gestiamo qui nella zona di Cortona, in particolare il furto più grosso che abbiamo avuto a Montecchio di Cortona, nei casali di Montecchio, sei appartamenti sono stati presi d'assalto nella notte fra sabato e domenica da banda di sconosciuti per asportare valori a turisti in arrivo proprio nella notte di sabato. Hanno passato alla setaccio appartamento dopo appartamento, sei quelli che sono riusciti a visitare in una sola notte, tutti affittati a turisti stranieri, nella cortonese torna così l'incubo furti. A partire dalla stagione turistica si tratta tutti di stranieri, famiglie di inglesi, danesi e olandesi, mentre dormivano facendo un foro nella porta o rompendo il cilindro della serratura, sono entrati, hanno girato per casa e ha asportato soprattutto soldi, quindi borselli con soldi, gettando poi le carte di credito nel piazzale o lungo la piscina di fronte alla struttura, qualche gioiello, poca roba, veramente una rifurtiva di poche cose, ma un grande spavento per gli ospiti che alla mattina si sono accorti che qualcuno era entrato in casa asportando le loro cose. Da qui la richiesta di maggiori controlli e più sicurezza. Oggi i luoghi veramente vengono recensiti nei maggiori portali, sia per la bellezza ma anche per la sicurezza. Quindi questa nostra denuncia, diciamo così, è proprio veramente una sensibilizzazione per fare in modo che ognuno, per quanto riguarda le proprie competenze, amministrazione, autorità di sicurezza, polizia, possiamo interrogarci. Noi siamo disporsi anche a trovarci in un tavolo di concertazione per capire qual è il modo e gli operandi per andare avanti e per poter garantire un po' di più di sicurezza a questi nostri ospiti in arrivo nel nostro territorio.